La politica è inferma, è un'inferma, è un'inferma. E con poche excepcione, ma in generale è più inferma che salle. che le passa a Perù che quando cada uno deixa a suo presidente e lo mette preso Romagna sta preso, Toledo sta preso Fulimori è preso ad ora a la cancilla sta che entro che non entro che passa a la cancilla